Il conto alla rovescia è iniziato tra poche ore e partiranno i nuovi saldi della stagione estiva 2016. Da sabato 2 luglio infatti l'Italia intera, fatta eccezione per la Sicilia che comincia i propri saldi già da oggi, sarà attraversata da nuove opportunità di acquisto a prezzi ridotti con la possibilità di fiutare veri e propri affari sui capi di fine stagione. In Puglia in particolare i saldi partiranno da sabato e proseguiranno fino al 15 settembre. In questi casi occorre ricordare alcune raccomandazioni fondamentali come ad esempio acquistare i capi in saldo preferibilmente in negozi abituali o di fiducia, confrontare i prezzi tra diversi esercizi commerciali, porre attenzione ai saldi superiori al 50% in quanto potrebbe trattarsi di merce dell'anno precedente e conservare lo scontrino perché costituisce una prova d'acquisto che obbliga il commerciante a sostituire la merce difettosa non conforme, anche se vi sono i cartellini in mostra con la dicitura che i capi in saldo non si possono cambiare. Quest'ultima purtroppo una pratica molto diffusa tra alcuni commercianti. Secondo il Codacons, coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, non ci saranno corse frenetiche all'acquisto. Le vendite saranno sostanzialmente stabili rispetto allo scorso anno e la spesa media degli italiani sarà in linea con quella del 2015 con uno scontrino medio che si attesta attorno ai 67 euro pro capite.